buongiorno 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 oggi è sabato 5 5 settembre e diamo diamo un po di spieghiamo che facciamo cambiare l'umore dai questi sono gli amici di la chop chop band il grande pepsi un saluto pepsi ciao continua così che sei un grande per chi non lo sa è una band di barletta e che ti svegli come se fossi già stanca e se non basta dopo provi con la doccia ma tu lo senti che non parte quello scoppio e allora oggi è il compleanno di giuseppe del zio che fa 15 anni auguri giuseppe e un saluto al papà giacomo nonché barlettelli trapiantati a sabbia eletto del trono per il lavoro ciao ciao buona giornata anche a voi e oggi il sabato praticamente c'è il mercato e quando si parla di mercato si parla di maasai e di maasai noi vogliamo parlare quelli che il mattino si svegliano presto per far servizi caffè belacca, caffè tutto grosso e con il mercato e niente oggi volevo anche salutare quattro signore Milena, Agnesi, Angela e Lucia e nonché la piccola Eleonora che praticamente a Eleonora io gli provinsi di fare dei saluti e me ne dimenticai quando mi aveva detto non mi volevo saluto a chi mi dici non ti preoccupare domani mattina la prima cosa che farò è salutarai te infatti ti ho salutato ciao Eleonora, buona giornata anche a chi e a tutti quanti vuoi ecco qua i polacchi i polacchi eh guarda allora bisogna fare così bisogna alzare un po' il volume sono le 9.30 quasi diciamo che di traffico non ce n'è più però molto molto basta solo un po' di volume molta 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 gente che non può andare al mare perché è nuboloso e allora profitto di fare qualche servizietto nel centro basta solo un po' di volume che bella sta canzone anche se è un leggero barco me tu dai il mio genio e niente dai oggi è sabato il sabato lo sapete cosa vi consiglio di fare no? prendere la propria moglie la propria fidanzata la propria amante i propri figli che dovrà fare una pizza voglio fare una piccola perciè perciè perché mi ha detto sempre il nostro motto perché mi ha detto che la buona gamba mi ha detto stupendo scusa voglio farlo passare ormai ero ero in moto e niente dai vi auguro un buon sabato un buon weekend vi auguro il meglio per tutti quanti voi auguri a chi festeggia come le anni matrimoni separazioni qualsiasi cosa che che c'è da festeggiare festeggiatela e poi vi voglio raccontare un altro episodio che a me ieri mi ha fatto male ma male 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 un ragazzo che aveva la bottiglia sotto i piedi l'ha buttato in mezzo alla strada io gli ho detto ragazzi ma c'è staff voglio fare ticca cioè ma non c'è la via non c'è la scatengueta e purtroppo è così quando uno è male e poi lo vi dico al castello che oggi farò un servizio andrò apposta per farvi vedere lo schifo che hanno lasciato niente dai vi voglio vi voglio rinnovare gli auguri a chi festeggia e un saluto a tutti quanti voi buona giornata da Barlita Resto dell'Uros ciao